Buonasera, professor Silente. La professoressa. Sono vere le voci, Albus. E il bimbo? Hagrid lo porterà qui. Nessun problema, spero, Hagrid. Sì, signore. E il bimbo? Il marmocchio si è addormentato mentre volavamo sopra Bristol. E il bimbo? Cerchi di non svegliarlo. E il bimbo? Eccolo qua. Via, via, Hagrid. Buona fortuna. Ere, ere, pala, pala. Sveglia, cugino! Andiamo all'azzo! Tra poco sarò non so. Sarà una giornata assolutamente meravigliosa. Sono certa che non vedi nulla. Guarda che ti guardo ragazzo. Sali. Esprimi un desiderio, Harry E' siccati Dursley, vecchia prugna Bah, non ti vedo da quando eri un fan, Harry, ma... Io, io, non, io non sono Harry Sono io Ma sicuro che sei tu Mica tutti i giorni un giovanotto compie 11-8 anni, vero? Tu chi cazzo sei? Rubeus Hagrid Custode delle chiavi e dei luoghi a Hogwarts E' chiaro che saprai tutto di Hogwarts Mi spiace, no No? Per Dintinti, ma non ti sei mai chiesto dove i tuoi hanno imparato tutto? No Tu sei un malo, Harry Scusa Ti dispiace? Sì 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 A proposito, sono Ron Ron Weasley A proposito, sono Ron Ron Weasley Rubeus Hagrid Rubeus Hagrid Rubeus Hagrid Wow Bene, da questa parte per la nere Benvenuti a Hogwarts Dunque Fra qualche minuto vercherete questa soglia e vi unirete ai vostri compagni Ma prima che prendiate posto, verrete smistati nelle vostre case Sono Griffon d'oro Tasso nero Corvo rosso Rosso nero Per il tempo che starete qui La vostra famiglia Scusa e Weasley Posso aiutarti io? S-s-s-s Dunque Prima di cominciare Il professor Silente vorrebbe dirvi alcune parole Desidero dare a voi tutti una nota Inoltre una fine molto dolorosa Grazie È matto quella là Te lo dico io Grazie